questo come porta la bici questo sarà anche se la pista ciclabile libera le biciclette andranno così perché ci sono i bambini i bambini vedi pure se vai in bici rischi di mettere sotto un bambino quindi diciamo che al mercatino ci si viene con la bici portandola a mano legandola all'albero come lì perché è pedonale se è pedonale non è ciclabile nel senso che pure se tu liberi la pista ciclabile comunque c'è un problema di sicurezza per i bambini per le persone che ci si viene in bici e si viene con la bici in mano si lega la bici all'albero si gira per i banchi poi si riprende la bici e si va a casa tutte le persone fanno così non vedo niente di strano vedi guarda quante bici ci sono ci saranno centinaia di bici legate agli alberi se si facesse da un'altra parte non sarebbe la stessa cosa è stato provato e non ha funzionato perché la gente non ama venire in altre fama venire a piazza del popolo perché c'è lo shopping si fa anche un negozio si fa anche nei negozi si fa la gelateria oltre che la visita alle banca per le basterebbe che l'unico giorno del mercatino sia abolita la pista ciclabile una volta saputo che se non ci danno la possibilità di stare così come stiamo in questo momento dice dove lo metto e dove ci metti comunque ripeto polemiche stiamo a zero spero che si trova una soluzione non è che